Musica Bentrovati e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura le novità sul caso di Elena Ceste, la donna scomparsa a Costigliore d'Asti a gennaio e ritrovata morta a metà ottobre in un canale vicino a casa sua. I sopralluoghi dei crebinieri del nucleo investigativo di Astri proseguono nella zona del rio Mersa dove è stato ritrovato un telo di plastica che è risultato essere sospetto. Intanto i genitori di Elena Ceste precisano che la donna non era per nulla depressa come invece sostiene da tempo il marito Michele Buoninconti il quale avrebbe anche aggiunto che Elena negli ultimi tempi diceva di sentire delle voci che la perseguitavano ma non ci sono riscontri. Sentiamo comunque altre notizie nel servizio di Calla Ruffino. C'è un nuovo indizio nelle indagini per la scomparsa e la morte di Elena Ceste si tratta di un telone di quelli usati in agricoltura per proteggere le colture da gelo e grandine trovato nei pressi del rio Mersa proprio il canale da cui il 18 ottobre scorso sono emersi i resti della donna scomparsa da casa nove mesi prima. Gli investigatori che lo hanno scoperto durante l'ennesimo sopralluogo a Costigliore d'Asti ipotizzano che sia servito per trasportare il cadavere di Elena sino al punto in cui è stato rinvenuto come se qualcuno lo avesse sistemato con cura per occultarlo sotto i rovi. Ieri intanto gli investigatori hanno compiuto anche un nuovo sopralluogo nell'abitazione della donna e secondo indiscrezioni avrebbero fotografato la serra di Michele Buoninconti il marito di Elena da sabato formalmente accusato dalla procura di Asti di aver ucciso e occultato il corpo della moglie. L'uomo continua a dichiararsi estraneo ai fatti ho accompagnato i figli a scuola e quando sono tornato Elena non c'era più, ripete qualcuno lo ha anche sentito inveire contro gli investigatori che a suo dire avrebbero trascurato le piste di indagine che lui aveva fornito sin dal primo momento della scomparsa di Elena. Michele aveva ipotizzato che la moglie fosse stata ricattata da un misterioso amico dopo una relazione extraconiugale. Nei suoi racconti però i carabinieri e la magistratura hanno rilevato diverse contraddizioni come quelle che riguardano il ritrovamento di abiti e occhiali della donna ritrovamento che, secondo una vicina di casa, sarebbe avvenuto ben prima dell'ora da lui indicata agli investigatori. Resta in carcere il marocchino accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 11 anni. Lo ha deciso il GIP presso il Tribunale di Alessandria Enrica Bertolotto dopo l'interrogatorio all'extracomunitario. Veniamo al servizio. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Sono le uniche parole pronunciate dal giovane marocchino accusato di violenza sessuale aggravata in pieno giorno vicino al liceo scientifico nei pressi di via Cardinal Massaia ha rubato un bacio a una studentessina di 11 anni solito incontrare mentre lei va a scuola e lui si dedica all'attività di posteggiatore abusivo. È Said Carcuri, 32 anni, senza fissa di mura, vive in stazione, arrestato dai carabinieri, interrogato al Don Soria dove è e resta detenuto dal gruppo Enrica Bertolotto. Davanti al magistrato ha taciuto, mentre ha escluso di avere molestato la ragazzina parlando con il difensore Fabio Bellera che in alternativa al carcere chiesto dal PM Marcella Bosco spera di ottenere o l'obbligo di firma o l'allontanamento dalla città non potendo beneficiare dei domiciliari perché non ha casa né amici in grado di ospitarlo. Lei invece quando lo ha visto nella caserma dei carabinieri non ha avuto esitazioni. È lui, ha detto. Lo conosce bene proprio perché sono soliti incontrarsi. Pare che dopo il pattaccio Carcuri l'abbia fermata e minacciata. Lei invece è corsa a casa e il genitore ha raccontato che l'est comunitario l'aveva afferrata per un braccio trascinando la via, accarezzandole una guancia e tentando di baciarla. Lei ha voltato la faccia e il bacio negato è scivolato su una guancia. È probabile che il magistrato proceda a incidente probatorio mettendo a confronto intagato e parte offesa. La cronaca era di Emma Camagna, ancora cronaca giudiziaria, stavolta da Torino. Un fatto che aveva occupato le prime pagine dei giornali in Italia tre maestre di Pinerolo che trattavano malissimo i bimbi ospiti della scuola. In primo grado erano state condannate, adesso invece assolte. Sentiamo le servizie. Se ci sia qualche problema parliamo di maltempo in arrivo, aggiornamento sulle zone più colpite. In pratica il nord-ovest si conferma una delle aree più colpite dal nuovo peggioramento in arrivo con le prime piogge di lunedì. Ma il clou del maltempo sarà tra martedì 4 e mercoledì 5 novembre. In tal frangente saranno possibili piogge abbondanti e persistenti con rischio anche di nubi fragili. Pre-allerta meteo, quindi in particolare sulla Liguria, dove si potranno accumulare in meno di 24 ore picchi anche di oltre 150 o 200 mm. Una situazione dunque potenzialmente critica per una ragione tanto delicata dal punto di vista idrogeologico. Piogge a tratti abbondanti sono attese in generale anche su tutta la fascia prealpina ed alpina meridionale, nonché sul Friuli, Venezia, Giulia e sull'Alta Toscana. Attenzione, stando agli ultimi aggiornamenti, il maltempo potrebbe persistere per farsi con piogge più o meno intense per buona parte della prossima settimana. Adesso ritorniamo alla cronaca giudiziaria e vediamo la notizia che vi dicevo prima da Torino. Assolte perché il fatto non sussiste e la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino nei confronti di Francesca Panfili, Elisa Griotti e Stefania Di Maria, le tre maestre dell'asilo privato nel Paese delle Meraviglie di Pinerolo, condannate in primo grado per maltrattamenti ai bambini. La vicenda era iniziata nella primavera del 2010, quando due ex dipendenti della scuola si erano presentate alla caserma dei carabinieri di Pinerolo denunciando vessazioni e abusi a cui le tre maestre avrebbero sottoposto i piccoli ospiti. Insulti, botte e punizioni cruente come quella di costringere i bambini a mangiare il cibo che avevano appena vomitato. A sostegno delle accuse, le dipendenti avevano anche presentato un video girato con il cellulare in cui si vedevano due bimbi messi a dormire sotto il lavello di un bagno e in mansarda. Stefania Panfili, fondatrice dell'asilo, e le due collaboratrici avevano sempre respinto le accuse. I loro avvocati, sin dal primo momento, avevano ventilato l'ipotesi di una sorta di complotto da parte delle ex dipendenti. La sentenza di primo grado le aveva assolte con formula piena in relazione all'accusa di abbandono, condannandole invece, appena fra i 10 e i 12 mesi, per maltrattamenti e ingiurie. Ieri il verdetto che cancella ogni accusa ha soluzione da tutti i capi di imputazione perché il fatto non sussiste. Alla lettura del dispositivo le imputate sono scoppiate a piangere per la gioia e la fine di un incubo hanno spiegato, durato 4 anni. Un viceministro oggi ad Alessandria, Enrico Morando, ha incontrato i sindaci e i rappresentanti delle zone alluvionate in prefettura ad Alessandria, ha detto che il Consiglio dei Ministri, riunitosi questa mattina a Roma, ha approvato una prima tranche di finanziamenti per l'emergenza nei comuni danneggiati dall'ultima alluvione. Ma ce ne parla Franco Capone. Dopo l'interpellanza fatta al governo sul numero dei comuni non riconosciuti danneggiati dall'alluvione da parte dei senatori di Federico Fornano e Daniele Borioni, si è svolto in prefettura ad Alessandria un incontro al quale ha preso parte il viceministro alle finanze e all'economia, Enrico Morando. All'incontro, presieduto dal prefetto Romino Dattrafuori, erano presenti i parlamentari, i senatori eletti di Alessandrino, l'assessore regionale e la protezione civile, i consiglieri regionali, il sindaco di Alessandria di Interossa, i sindaci dei comuni alluvionati non inclusi nell'elenco e quelli delle zone fortemente danneggiate dall'alluvione. Una testimonianza è stata portata dai responsabili della protezione civile. Durante l'incontro il viceministro ha affermato. Sì, più che altro raccogliere le indicazioni circa le esigenze, spronare a fare presto questa fase di istruttoria che deve essere completata al più presto, sollecitare a fare in modo che l'elenco dei comuni interessati sia corretto, mettiamola così, cioè quello giusto e non quello sbagliato sia per difetto sia per eccesso e impegnarci naturalmente come governo a fare tutto quello che è necessario perché il danno venga riparato il più rapidamente possibile. Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha emanato un primo provvedimento che riguarda le alluvioni tra le quali quelle del Piemonte, ma si tratta di un primo intervento, quello immediato per le operazioni dell'emergenza ancora sostanzialmente, quello più serio dovrà essere emanato sulla base di una valutazione dei danni che sia più seria. Infine ci sono in provincia d'Alessandria, ma non solo, molte operazioni più complesse di interventi su infrastrutture stradali e ferroviarie, interventi di riassetto idrogeologico del territorio che implicano una progettazione che immagino ancora non sia compiuta, anche su questo punto bisognerà rapidamente provvedere. A proposito di questo, a Novi Ligure l'amministrazione ha deciso di mettere insieme un gruppo di lavoro a supporto dei tecnici comunali, volto ad analizzare eventuali criticità nell'assetto del territorio e poi elaborare un piano sull'assetto idrogeologico. Ma ci racconta tutto Enrico Mariano. A Novi Ligure, dopo l'alluvione del 13 ottobre, l'amministrazione comunale intende costituire un gruppo di lavoro a supporto degli uffici tecnici comunali, volto ad analizzare eventuali criticità nell'assetto del territorio. L'obiettivo è quello di individuare elementi di debolezza in caso di nuovi violenti nubi e segnalare eventuali misure da adottare. Per questo motivo, oltre a tenere conto delle autonome segnalazioni già pervenute, la Giunta richiederà gli ordini professionali di indicare eventuali professionisti disponibili a titolo di volontaria e gratuita collaborazione per far parte di questo progetto. L'amministrazione, in una nota stampa, ha voluto ringraziare fin d'ora quanti vorranno mettere a disposizione parte del loro tempo e della loro professionalità a beneficio della comunità novese. Nel contempo, l'amministrazione intende incrementare il lavoro per l'elaborazione del piano sull'assetto idrogeologico, strumento propedeutico allo studio urbanistico e indispensabile per prevenire gli effetti di forti precipitazioni. Sempre in questo senso, l'intenzione è quella di procedere alla realizzazione di interventi urgenti sul territorio, in conseguenza dell'evento luvionale del 13 ottobre scorso. Inoltre a Novi, la Giunta Comunale ha invitato i cittadini a consegnare entro il 15 novembre le schede di ricognizione dei danni subiti da privati e aziende in occasione dell'evento alluvionale. In questo modo sarà possibile avere un quadro più preciso dell'ammontare dei danni stessi. I modelli possono essere ritirati presso il comando della Polizia Municipale di Via Verdi 37, lo sportello del cittadino di Via Giacometti 22, l'ufficio urbanistica di Via Gramsci 11 oppure scaricati dal sito internet del Comune. In questa fase non è necessario presentare perizie per i danni strutturali. In ogni caso la Giunta consiglia di allegare alla richiesta quanta più documentazione possibile, anche con il supporto di fotografie dei beni danneggiati. L'iniziativa rientra nell'ambito della dichiarazione di stato di calamità già richiesta dal Presidente della Regione Sergio Chiamparino. Ieri si è rimunito per la prima volta a Palazzo Ghilini il nuovo Consiglio Provinciale. Ovviamente c'era il nuovo Presidente della provincia Rita Rossa e di nuovi consiglieri eletti con il nuovo metodo previsto nel caso di elezione per ente di secondo grado di area vasta, quindi non dai cittadini ma dai sindaci e dai consiglieri. Durante la seduta il Presidente Rita Rossa ha ripetuto ai presenti la formula del giuramento ed è stata effettuata la convalida degli eletti. Il Presidente Rossa nel suo discorso di insediamento ha detto dovremo profilare un nuovo cammino per l'ente e lo faremo attraverso lo Statuto, al quale daremo valenza sostanziale creando dialogo e condivisione con il territorio. Si apre quindi una nuova stagione di grandi difficoltà ma anche di scommesse da vincere. Il nostro territorio è un patrimonio da difendere e salvaguardare che ha valore strategico per il Paese intero e la sua economia. Il primo provvedimento poi preso dal Presidente Rossa è stato stanziare una cifra, una prima cifra destinata al ripristino delle strade e della viabilità, le strade naturalmente danneggiate. Iniziato il mesto pellegrinaggio nei camposanti di Alessandria e provincia per rendere omaggio ai defunti. Numerose le cerimonie in programma. Mi sentiamo da Franco Capone. Domani, primo novembre, la Chiesa besteggia la ricorrenza di tutti i Santi. In questo giorno festivo iniziano anche le cerimonie delle celebrazioni liturgiche in suffraggio dei defunti con una messa solenne che si terrà nel pomeriggio alle 15 presso la chiesetta situata all'interno del cimitero cittadino. Già da oggi è iniziato il lungo pellegrinaggio nei camposanti per pulire e adobare con un fiore la lapide dei provi defunti. Fiori e lumini che, anche quest'anno, hanno dovuto abbassare il prezzo per la crisi che ha colpito tutti i settori dell'economia e del commercio. Intanto Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale per garantire la sicurezza dei cittadini, effettueranno il servizio di controllo nei pressi all'interno dei camposanti. Inoltre l'amministrazione comunale ha disposto una serie di provvedimenti per il traffico e la sosta in via Monteverdi e nei pressi del cimitero Alessandrino, dove domenica prossima 2 novembre si svolgerà l'omaggio a tutti i caduti ai defunti con la deposizione di una corona e a loro da parte di tutte le autorità cittadine ai piedi della lapide situata nel latio dell'ingresso del cimitero monumentale. Il camposanto di Alessandria e delle frazioni resteranno aperti dalle 8 del mattino alle 18 della sera fino al prossimo 6 di novembre. Con la Maratona Luminosa in partenza dalle 18 da Piazza San Carlo Felice a Torino inaugura sabato prossimo la 17esima edizione di Lucida Artista, la manifestazione che apre l'autunno dedicato all'arte contemporanea. Ce ne parla Carla Ruffino. Dalle luci d'artista che torneranno ad accendersi sabato prossimo al termine di una maratona luminosa alla 21esima edizione di Artissima in calendario all'Oval del Lingotto dal 7 al 9 novembre, passando per gli appuntamenti dedicati alla creatività giovane di Adars alle nuove e paratissima Torino Esposizioni e all'ormai irrinunciabile notte dell'arte contemporanea con l'apertura gratuita di tutti i musei sabato 8. Torino torna capitale del contemporaneo a novembre con un ricco cartellone culturale composto da circa 70 eventi all'insegna della contaminazione fra le arti. Per presentare l'ottava edizione della manifestazione il Comune ha scelto il nuovo Museo Ettore Fico, una fabbrica in viacigna trasformata in luogo adibito all'arte, un simbolo del processo di trasformazione che ha coinvolto l'intera città. La nostra è una città in grande trasformazione, deve fare sempre i conti con lo stile del contemporaneo, con la propria tradizione. Io credo che per esempio questo museo nel quale abbiamo voluto fare la conferenza stampa di recentissima apertura, tra l'altro con una mostra su Ettore Fico di una bellezza sconvolgente, dimostra praticamente questa trasformazione. Questa era una vecchia fabbrica e adesso è diventato credo uno dei luoghi più belli anche dal punto di vista visivo dell'impatto in cui trascorrere delle ore in compagnia in questo caso di mostre di assoluto valore. A inaugurare il Mese delle Arti Contemporanee, come da tradizione, l'accensione delle luci d'artista. 19 opere luminose che comprendono il riallestimento di lavori come l'Energia che unisce e si espande nel blu di Marco Gastini alla Galleria Umberto I e il Regno dei Fiori di Nicola De Maria in piazza Carignano. L'appuntamento è alle 18 in piazza Carlo Felice per la partenza della Maratona Luminosa realizzata in collaborazione con Tour in Marathon, un percorso di 6 chilometri con arrivo in piazza Castello durante il quale, una dopo l'altra, si accenderanno le luci d'artista. Finisce qui il nostro telegiornale, dopo la sigla ci sarà la rubrica, lo spazio informativo chiamato Agri Insieme che va in onda ogni venerdì, curato da Alessandria della Ca' ed è uno spazio nato per valorizzare le tipicità agricole della provincia di Alessandria. Poi come sempre subito dopo ci sarà lo sport, gli appuntamenti del weekend e quello di questa domenica, 2 novembre, sarà una domenica speciale soprattutto per l'Alessandrina Valeria Straneo impegnata nella maratona più famosa del mondo, quella di New York. Poi dopo il servizio sportivo come sempre il meteo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Un mondo di bollicine tutte piemontesi, Agri Insieme oggi ci porta alla scoperta del moscato. Il Piemonte è una regione particolarmente evocata per la produzione di uva moscato che si estende sulle tre province di Alessandria, Asti e Cuneo per 10.000 ettari. Direttore, l'area di produzione prevista da disciplinare è, nello specifico per la provincia di Alessandria, la Quese. Sì, è la Quese, che è una delle aree tra l'altro più vocate all'uva moscato. Da quest'uva moscato dove si traggono le produzioni importanti, più importanti del sud Piemonte, che sono l'asti e il moscato d'asti, quindi l'asti, le bollicine, che è un una delle produzioni più conosciute al mondo tra le bollicine italiane, insieme al Prosecco. L'uva moscato è un vitigno abbastanza resistente, capace di essere trattato, diciamo così, in modo abbastanza semplice dal viticoltore, ma comunque occorre tanto lavoro e anche tanto lavoro di squadra. Abbastanza semplice, comunque come evidenziavi occorre molto lavoro di squadra, anche perché il moscato è poi un'uva che essendo in gran parte trasportata e organizzata per il mondo industriale deve essere ben organizzata. Infatti il sistema cooperativo della nostra provincia, che vede proprio nella Quese, tra le più importanti cooperative che trattano le uve moscato, è un sistema che viene preso ad esempio in tante parti del Piemonte, ma non solo del Piemonte. Questo speciale da tre minuti curato da Agri Insieme trova la sua espressione, in questo caso, in Agri Insieme Moscato. Certo, Agri Insieme Moscato è l'associazione di produttori che vede tra gli interpreti le parti associate che qua stanno trasferendo ai nostri agricoltori della provincia le posizioni, le idee, i progetti di Agri Insieme. È un momento molto importante ed è l'organizzazione oggi dei produttori più grande dell'area del moscato. Devo dire che, senza polemizzare con i colleghi delle altre, anche perché tutti stiamo lavorando per il moscato, devo dire che la nostra associazione lavora per il sistema agricolo del moscato. in particolare, con molta attenzione alla parte industriale, perché è la filiera quella che conta e se la filiera è forte, sono forti i produttori ed è forte la produzione che poi gira per il mondo. Agri Insieme Moscato, che è il primo progetto economico a livello nazionale in cui Agri Insieme si cimenta direttamente, è riuscita a ottenere, dopo una paritetica abbastanza sofferta e con molte discussioni, un ottimo risultato che porta ai produttori un significativo incremento di reddito rispetto all'anno passato. Il moscato è un settore della nostra viticoltura che gode di ottima salute, il prodotto è molto ricercato, le vendite sono in aumento, così come le esportazioni. Ma a maggior ragione c'è bisogno di un coordinamento fra tutti gli attori della filiera per fare in modo di non rovinare questa situazione e vedere che queste ottime condizioni per i nostri agricoltori possano essere tali anche nel futuro.